Salve a tutti, popolo del web, rieccoci in un nuovo video, volevo annunciarvi alcune news. Finalmente abbiamo raggiunto 300 video, l'argomento di cui discuteremo tutti insieme è il seguente. Per la precisione ci troviamo a Verona, bimbo di 4 mesi viene abbandonato per strada dai genitori. A me queste cose mi fanno rabbia e dopo vi spiego il perché. Prima di continuare il video, ormai voi lo sapete, siamo a Napoli, un bel caffè ci vuole, alla vostra. E' che bella, davvero un buon caffè, quello fatto in casa. Ci troviamo a Verona, bimbo di 4 mesi viene abbandonato in via Tevere a Verona. Ringraziando il buon Dio, una pattuglia vede il bimbo e lo salva. Questi sono due angeli custodi. E sì, lo hanno salvato la vita. Parliamoci chiaro. Le forze dell'ordine fanno i dovuti accertamenti e trovano i genitori, due rumeni irresponsabili, lui di 30 e lei di 34. Dicono che lo hanno abbandonato perché non avendo casa e non avendo lavoro non lo possono mantenere, quindi hanno preso la decisione più dolorosa, quello di abbandonare un'anima innocente di 4 mesi in mezzo alla strada. Cioè, tu non avendo un lavoro, non avendo una casa, butti un'anima innocente in mezzo alla strada come se fosse un rifiuto? Io non lo so. Io spero solo una cosa, che gli assistenti sociali, il giudice, trovino una famiglia per questo pupo, perché questi due genitori sono due irresponsabili e immaturi. C'erano centomila modi diversi. Allora, sicuramente dovevano trovare una soluzione differente a questo problema. Ah, per dover di cronaca, oltre le 500.000 richieste di adozioni per adottare il pupo. Ah, finalmente una bella notizia. C'è qualcuno che vuole dare amore a quest'anima innocente. Se lo merita tutto l'amore del mondo. Auguro il meglio a questo pupo. Ai genitori rumeni, sinceramente, dovevano trovare un'altra soluzione. Questo è poco, ma sicuro. Comunque, vi terrò aggiornati sulla vicenda. Di certo non finirà qui la questione. Eh, eh, eh. Siamo giunti al termine di questo nuovo video. Barra, comando, condividiamo video in coppie social, Facebook, Twitter e Instagram. Io vi voglio bene a tutto quanto. Ci avremo al prossimo video. Ciao, adiu.